Grazie di bilancio numero 182 del 26-7, ottobre 21-15. Ora abbiamo assortato le seguenti... Avvocato, per favore... Abbiamo assortato la seguente... La seguente, la ragazza di bilancio... Sono stati iscritti in bilancio, da parte dell'entrata, 420.000 euro, che è un finanziamento di spesi del sistema regulativo, sono stati poi iscritti 3.805,87 euro, che sono trasferimenti correnti dello Stato, e in pratica sono voti esenzionali, e ulteriori 2.354 euro come contributo per la presenza della spiaggia, della Comunità della Regione Catandria. Attesi, sono stati in bilancio 8.659,47 euro, atti a rinuncare il capito relativo a fondo di inizio ordinario, ulteriori 800 euro per spese telefoniche, In uscita sono stati previsti poi 10.200 euro come minore entrati, 10.200 euro per le spese generali di utilizamento telefoniche, e 2.200 euro per i cilindiziari, spese diverse, poi spese telefoniche iniziali. nonostante, nonostante 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 nonostante. La spese di 5.000 euro per la spiaggia, che è in trasporto scolastico, il punto 61 è relativi a spese di pulveramento e istinzione primaria, spese telefoniche eccetera, 4.692.78 euro come spese per l'assistenza e 420 euro di via relativi sempre a più fondo per l'affiazzamento regionale per la depurazione. Come minore spese invece abbiamo appuntato la modifica di 400 euro per le spese diverse per l'ufficio polizia municipale, 9.692.78 per le spese diverse per la distruzione e l'ultimo euro di 100 euro in meno per le spese generali di funzionamento delle telefoniche.